Qua c'è Aldo Russo, precampionato della Viola, innanzitutto programma di amichevoli molto intenso, inizierà la preparazione, nuovo preparatore. Lo staff tecnico è praticamente lo stesso, Ponticello Russo e Pasquale Motta, con quale auspici ricominciate questa stagione? Cominciamo con la voglia di riconfermare quanto di buono l'anno scorso abbiamo fatto. Un bel programma di amichevoli, come hai citato, che consta di tanti amichevoli con squadre di Lega 2 Gold soprattutto, vedi Barcellona, Capodorlando, Trapani, il Torneo Sant'Ambrogio e ancora un altro eventuale amichevole. Dovremmo riuscire ad arrivare ad otto amichevoli in modo da cementare quanto più possibile il gruppo e trovare quell'alchimia che ci servirà nell'integrazione dei nuovi. L'attore psicologico si arriva da un finale di campionato pazzesco, c'è vittoria a raffica, incredibili. Adesso serve un attimo di tranquillità e analizzare passo dopo passo il campionato. E' chiaro che l'inizio della passata stagione non fu eccelso, serve tanto lavoro e tanta pazienza. Serve tanto lavoro, piedi per terra, lavorare con il giusto equilibrio, capire un po' quanto possono incidere gli extracomunitari, gli stranieri, gli americani o i comunitari che siano nelle varie squadre. Per noi è stato importante riuscire a confermare i quattro giocatori che faranno parte del roster, creare un buon gruppo di italiani che possa fare in modo che anche gli altri si integrano perfettamente. Sappiamo tutti che la qualità del gruppo dell'anno scorso è quello che poi ci ha dato tanto, soprattutto nel finale. Sarà proprio la qualità dei rapporti umani che riusciremo ad avere tra di noi insieme al contesto ambientale che, come più volte ho detto nell'anno sportivo scorso, fa la differenza, ti fa sentire bene, accolto, i giocatori si sentono dei beniamini e riescono ad andare tutto. Qua Cialdo Russo è stato schiavizzato positivamente con tanti mixtape, partite integrali e chi più ne ha permetta, dei nuovi arrivi. Qualcuno già chiaramente lo conosce benissimo, adesso ci racconterà Keyon Bell, che giocatore è? So che Keyon Bell è un giocatore molto discusso e sul quale si nutrono delle ottime aspettative, un giocatore di talento, un giocatore in grado di attaccare un uno contro uno, un giocatore che possiede anche range di tiro, un giocatore che ha nell'atletismo e nella forza fisica, nella capacità di attaccare uno contro uno, probabilmente il suo punto forte. È un giocatore che è anche difensivamente affidabile, un giocatore in grado di poter giocare nel nostro sistema sicuramente, potrà andare al ferro ma vi dico anche che ha delle qualità al tiro che possono divenire importanti. È una squadra questa che punterà sempre, come abbiamo sempre detto e come ripeteremo spesso, sul sistema viola, non sul singolo giocatore. Quindi sarà il sistema ad esaltare puntualmente le varie individualità che avremo. Dal sistema devono arrivare i palloni anche sotto canestro, c'è questo nuovo lungo americano, Malcolm Kirkland, una bella scommessa anche lui, giovane, di prospettiva. Abbiamo puntato su due ruchi perché volevamo gente che volesse fortemente la viola e con ambizione. Kirkland è un giocatore che secondo me potrà, oltre al giocare in post-up, con dei buoni movimenti, come avete avuto modo anche voi di vedere, probabilmente dalle highlights, ma noi lo abbiamo visto anche nelle altre partite, un giocatore che ha anche un range di tiro più lontano dal canestro, un giocatore di peso, un giocatore che ci darà sostanza al rimbalzo, un giocatore che nonostante la sua mole è un giocatore che ha piedi rapidi anche difensivamente e credo si integrerà bene con gli altri due ragazzi nello spot di lunghi, che sono Gaetano Spera e Marco Amma, insieme poi a Ion che sicuramente ci darà una buona mano, un'ottima mano. È saltata la trattativa con Bruscolotti e dunque i giocatori campani sono soltanto due i nuovi e sono Gaetano Spera e Gennaro Sorrentino. Chiaramente partiamo prima dal cambio del lungo, Gaetano Spera, questo ragazzo... Non siamo riusciti a prendere in signe neanche. Neanche in signe, Nando De Napoli neanche. Va bene. Forse però non ce l'abbiamo fatta. Va bene. Sperando di avere anche Alemau un domani come straniero, perché un brasiliano fa sempre comodo, Gaetano Spera. Gaetano Spera è un lungo, rapido, che ha buona visione di gioco, che ha buone capacità fronte a canestro e spalle a canestro. Giocatore molto rapido, che ha nella corsa, nei piedi rapidi, benché sia un 2-8, capacità di saper giocare, visione di gioco. È un giocatore di prospettiva, un giocatore che ha giocato in tutte le nazionali di categoria. L'ultimo europeo, dove la Nazionale Under 20 ha vinto poi il campionato con grande merito, è arrivato lì, all'ultima convocazione. L'anno scorso probabilmente non è stato un anno fortunatissimo per lui. Forse poteva aver pagato anche la transizione dall'NCA, perché lui era stato scautizzato e reclutato da un college americano, e poi ritornare. Ha sempre dato grande impegno, intensità e voglia di fare. È un giocatore che, secondo noi, ha delle ottime potenzialità per poter esplodere. Ma Sorrentino è un playmaker o una guardia? O tutte e due? Tutte e due. È una combo guard, è un giocatore che può ricoprire entrambi i ruoli, che si sposerà perfettamente. Crediamo, ne siamo convinti, con Nunzio, con Sabba, anche con Keion Bell. È un giocatore che può ricoprire entrambi gli spot, diverso da quello che era la struttura dell'anno scorso, ma è un giocatore che è affidabilissimo a livello difensivo, un giocatore molto agonista, che ha gran tiro da fuori. È un giocatore che saprà integrarsi nel sistema e il vantaggio potrebbe essere proprio quello di aver già giocato per Ciccio e quindi conoscere il sistema che il coach proporrà. Con Peter Rosser, un altro ragazzo che faceva parte del gruppo 93, ha fatto pure l'ultima trasfiga nazionale, Alessandro Azzaro, anche lui una bella scommessa. Assolutamente. Alessandro Azzaro è un under di valore, un under mancino, che ha un trascorso nella giovanile della Fortiuto Bologna, che l'anno scorso si è ripreso nel campionato e ha giocato in C1 a Fabriano, oltretutto seguito proprio da Eros, che è il nostro nuovo preparatore atletico. ed è un giocatore che ha mezzi tecnici e fisici per poter diventare un giocatore importante in questo sistema. Magari un giocatore che sappia alternarsi in due ruoli, un giocatore che sappia mettere agonismo, che sappia mettere intensità difensiva. Da addetto ai lavori, dove collochiamo la viola in una probabile classifica di campionato? Noi non facciamo conti come non ne abbiamo mai fatto neanche l'anno scorso. Puntiamo alla salvezza e vediamo dove poi potremo arrivare. È troppo presto per poter decidere sulla carta in questo momento dove. È chiaro che ci fa piacere aver confermato un gruppo, una buona parte del gruppo, che ci garantisce continuità, ma non abbiamo assolutamente calcoli fatti o da poter fare. Quindi partita dopo partita? Vedremo assolutamente partita dopo partita, vi aspettiamo numerosi tutti quanti al campo, seguiteci, stateci vicino come avete sempre fatto, perché siete fantastici davvero tutti quanti e sicuramente i giocatori sapranno darvi quel cuore che sappiamo che tutti quanti danno alla viola. Una cosa determinante quest'anno è che tutti i giocatori che abbiamo hanno voluto fortemente la viola. E anche perché dobbiamo creare dei problemi alla città, perché sono 2.226 posti, dobbiamo riuscire a sforare questo tetto. Magari riuscissimo a sforare il tetto del Pentimele, magari riuscissimo ad avere il campo quanto prima. Per me e per noi, per tutti, avere quante più persone al palazzo. L'anno scorso giocare quelle partite col palazzo pieno era come stare su una nuvola e tu venivi trasportato da quell'entusiasmo. Io l'ho scritto anche, penso che l'avrai letto, entusiasmo, adrenalina, voglia di fare. Vi garantisco che tutti quanti ci metteremo il massimo e tutti quanti vogliamo la viola in alto.